Eccoci a bordo con Marco Lino, siamo a uno dei raduni Seat Leon 5F organizzati dal Grande Darione, siamo nella provincia di Biella, poi proseguirà verso la Valle d'Aosta, quasi 40 macchine iscritte, qua siamo proprio nelle campagne biellesi, Seat Leon 5F, qualche infiltrato con delle Leon precedenti, qualche infiltrato con qualche altra macchina, tutti amici ovviamente e basta, giornata per adesso veramente bella e splendida, vedete le Alpi, sopra Biella cariche di neve, nonostante siamo a metà aprile, qui siamo nella bassa dove ci sono le risaie che sono in fase di preparazione. Grazie a tutti.